Ciao ragazzi, ho deciso di girare una serie di video che chiamerò tutti i porzi per lo shopping e comincio da farvi vedere lo shopping di oggi, che sono andato a un grande centro commerciale e ho comprato questo libro che avevo già il primo che si chiamava Wolves e questo è il secondo e l'ho pagato 14 euro vi farò sapere poi com'è poi ho preso una cover che non vi faccio vedere perché ce l'ho al telefono poi sono andata dalla FIFA e ho speso 8,80 euro e ho comprato questo Water e Shadow numero 210 e l'ho pagato 5,90 euro è fatto così il packaging dietro c'è il numero e tutta la spiegazione e vi faccio vedere adesso colore ed è questo colore molto soft non so se si vede ecco e c'è anche uno specchietto mi è piaciuto e poi ho preso l'isciato numero 132 che l'ho pagato 2,90 euro e questo marrone ed è questo marrone poi nei prossimi giorni penso sabato vi girerò il video sui miei prodotti con il buco se vi può interessare e poi infine ho comprato delle magliette perché mi sono arrivano da H&M e ho preso questa fatta così l'ho pagata 2,99 euro poi questa fatta così di questo verdolino e l'ho pagata 14,99 euro e poi infine ho preso questa felpa che è lunga con scritto blu 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 e ho pagato 19,99 e poi ho preso 4,99 euro di cover e in tutto ho speso su una settantina di euro spero che le cose che ho preso vi siano piaciute e la prossima volta continuerò con questa saga di video ciao 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 ciao